Fa caldissimo ragazzi, quindi ho deciso di preparare un buonissimo gelato in tre varianti, base fior di latte e poi pistacchio, arachidi con caramello e nutella. Una vera bontà! Adesso vediamo insieme come preparare la casseruola, mettiamo tutto il latte, aggiungiamo anche lo zucchero e poi anche la panna. Un po' di miele, mescolare, facciamo sciogliere il tutto, mettiamo da parte e aggiungiamo la base neutra, mescoliamo ancora e facciamo raffreddare completamente. Sperite il composto nella gelatiera e facciamo andare per circa 30-40 minuti. Come potete vedere questo è il risultato. Adesso mettiamo nei bicchieri e vi faccio vedere, arachidi, caramello e ovviamente mescolate, io ho dimenticato. In un altro bicchiere facciamo nutella, granella di nocciole, mescoliamo e per finire facciamo quello al pistacchio, quindi crema di pistacchio e granella di pistacchio. Mettiamo 30 minuti nel congelatore ed eccoli pronti da gustare. Uno tira l'altro.